Let's e gooo! Merda! Oddio! Oddio! 33 punti, è il sesto game in corso? Vediamo se siamo contested oppure no Ok, questi due punti sono molto buoni Cerchiamo di mantenere una certa mentality Non abbiamo praticamente nulla se non un po' di mazzo Contiamo ad entrare in zona Non ho colpi ma non mi sono mai serviti i colpi in queste partite Ma prima di andare avanti con il video ragazzi Voglio ricordarvi che da oggi inizia la nuova bundle week di Level Up Dal 21 al 28 febbraio Troverete nel negozio online Trovate ovviamente il link in descrizione del video Un sacco di nuovi bundle a prezzi eccezionali Ad esempio il nuovo best seller bundle Che comprende il Bumble Boom e il Galaxy Oppure c'è anche lo Shiny con dentro Shiny Fox e Shiny Dragon Sono davvero delle offerte da non perdere e per l'occasione Anche il codice Xiuderone avrà un aumento del 15% di sconto Quindi potrete utilizzarlo anche sui bundle già scontati Ragazzi Andiamo a fare un assaggio Mezzo litro d'acqua Un misurino di prodotto Shake 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 Ed eccolo qui ragazzi Il vostro Level Up è pronto Andiamo all'assaggio Il Bumble Boom ragazzi è davvero tanta roba Non troppo dolce con quel retrogusto Che ti dà una esplosione di sapore eccezionale Mi raccomando ragazzi Level Up fatto dai gamer per i gamer Vai 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 Siamo riusciti ad aggiungere il centro safe E' buono Forse Mi devi sciocchiare il cazzo Mi devi sciocchiare il cazzo Mi devi sciocchiare il cazzo Figlia di putta Suoca Suoca Mezzo litro d'acqua Mangia level up Mangia Merda Andiamo verso il centro 280 metri al centro Vediamo vediamo come si chiude la prossima Togliamo i vari ping Aspettiamo un attimino E vediamo di farcela 43 punti dai 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 E dai 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 non facciamo niente non facciamo niente no 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 troppo a paura del clean up prendo pompato via i colpi materiali troppa fifa dei clean up ci muoio nel clean up siamo in 20 dai a Grazie a tutti 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 Oh mio Dio Oh Dio Oh Dio Merda Non so se l'avrei pompato quello e Io dico sì Peccato per il secondo miss Ce l'avrei fatta Oh mio Dio Oh mio Dio Oh Dio Oh Dio Grazie a tutti.